Intanto il saluto ai nostri telespettatori. Oggi in primo piano la gestione della Pala Volcan di Corso Italia ad Acireale. Gestione che dal primo gennaio scorso ha cambiato padrone, lo diciamo tra virgolette. La gestione è stata affidata ad un'associazione di imprese Acireale per lo Sport composta dalla Top 5 e dalla CSI di Acireale. Da quel momento in poi numerose società sportive hanno lamentato la mancata concessione di utilizzo della struttura sportiva. Oggi siamo qui con Paolo Panebianco, presidente dell'Aci Basket, società storica ad Acireale, il quale appunto lamenta pubblicamente quello che abbiamo appena detto. Panebianco, il mancato utilizzo della struttura, la mancata concessione di utilizzo. Sì, tra le altre cose la società che si è aggiudicato il bando di gara ha tutto il diritto di dare, non dare, poi bisognerebbe leggere bene il bando, ma noi abbiamo inoltrato richieste prima in via normale, poi tramite via PEC, alle quali né loro né l'amministrazione ci ha dato risposta. Questa è sicuramente una situazione che ci penalizza, ci ha costretto per la prima volta in 37 anni a dover rinunciare al campionato perché non avevamo un impianto dove potete disputare le gare casalinghe e allenarci, con la situazione Covid che la federazione italiana Pallaccavestro ha superato rendendo il campionato di livello nazionale. Quindi quest'atto, questi atti che sia l'amministrazione comunale, sia nella persona del sindaco, dell'assessore dello sport, sia da parte dei gestori, la SD Top 5 che ricordo era socio del GIS e che ha usufruito della struttura per gli anni di gestione del GIS che io stesso presiedevo e quindi siamo assolutamente maltrattati e bistrattati e non hanno permesso a una società storica, voglio ricordare la seconda, la cereale dopo la cereale di calcio, di poter partecipare al campionato. Ecco, voi lamentate delle mancate risposte. Sì, sì, noi lamentiamo delle mancate risposte, abbiamo anche cercato aiuto nelle varie istituzioni che hanno cercato di fare breccia in queste mancate risposte perché onestamente non sappiamo il motivo per cui non ci viene concesso il Palavolcan. È una struttura da 1200 posti, non può essere uno datorio, non può essere dato a società che fanno attività solo così per passatempo, ma è un palazzetto che deve essere dato a società di livello regionale nazionale come la nostra. La gestione si difende dicendo che ci si sta organizzando? Si sta organizzando, ma il calcio a 5 di serie B sta giocando, hanno fatto tesserare per la prima volta la Sicil Grassi come centro sportivo italiano e quindi si sta allenando e sta giocando le partite all'interno, anzi le partite adesso non più, non gliele stanno facendo giocare più, ma che comunque si stia allenando all'interno del Palavolcan. Per cui c'è sicuramente una discriminazione nei confronti del basket acideale e ancora cerco di capire il perché. Impiantistica sportiva, insomma siamo all'anno zero. L'impiantistica sportiva, sì, questa amministrazione ha distrutto praticamente lo sport, prima rendendo ancora una volta commerciale il Palavolcan, chiaramente commerciale non ha nulla e poi manca il calcio minore senza strutture sportive, senza campi. Santa Tegla, Guardia, il Comunale, insomma sono campi in cui non si può giocare, la ci so che ha venduto alla società e quindi insomma la situazione dello sport è all'anno sotto zero, sotto questo punto di vista. È un'esternazione la sua che vuole essere anche una sorta di appello, immagino, all'istituzione. Ma appello, il sindaco non ci vuole incontrare, ho avuto qualche colloquio con l'assessore allo sport, ma molto, molto marginale. Insomma per cui voglio dire c'è un muro enorme nei confronti di due società che hanno dato tanto ad Acidale e mi riferisco a me, ma anche al pattinaggio di Massimiliano Trovato. Un muro enorme, diceva prima il Presidente Paolo Panebianco, nei confronti di due società. Una di queste è gestita e presieduta da Massimiliano Trovato che abbiamo qui con noi. Questo muro come avete tentato di abbatterlo? Nando, buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno anche a te direttore. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, siamo arrivati anche dal Vescovo, quindi immagina, siamo passati dal CONI, siamo passati dal Vescovo, abbiamo cercato il sindaco, abbiamo cercato l'assessore, abbiamo cercato anche i consiglieri comunali, ma fino ad oggi c'è stato un muro da parte di tutti. Il CONI ha provato più volte a mettersi in mezzo per cercare di risolvere questa faccenda, ma purtroppo neanche loro sono riusciti, perché non si sa perché questa nuova società di imprese che è nata si sono messi a comportarsi così, come ha detto anche il Presidente Panebianco, ricordando sempre che la Top 5 Baciriale fino a settembre del 2020 è stata socia del GIS, quindi ha gestito con noi la struttura per 4 anni, quindi non si capisce perché questo muro. Screzzi che sarebbero nati durante questo periodo di gestione? No, perché non ci sono stati screzzi, abbiamo gestito in modo benissimo il palazzetto, abbiamo lavorato tutti là dentro, abbiamo fatto i campionati, abbiamo fatto i nostri allenamenti, era una famiglia. Ma come ve lo giustificate questo muro allora? Non lo comprendiamo, anche perché ho provato a parlare più volte anche con Ugo Petrina, telefonandogli, mandandogli messaggi, lo stesso con Raffa, ma non gli danno una risposta, così come è gravissimo non avere mai risposto alle pecche, ai documenti protocollati, perché anche il CSI, come la mia federazione, di cui ne sono anche il Presidente, è un ente e come ente ha l'obbligo per legge di rispondere entro 30 giorni, questo non è successo. E intanto, dicevamo prima col Presidente Panebianco, l'impiantistica sportiva ad Acideale lascia molto a desiderare, la storia del campo sportivo comunale, il glorioso comunale di Acideale o lo stesso pattinodromo, dove i lavori sono ancora tristemente fermi? Sì, come hai detto, l'impiantistica ad Acideale non esiste più. Fino a qualche anno fa si è cercato di portare avanti lo sport, ma non ultimo anche con l'ex assessore Palmina Fraschilla, che devo dire è stata vicino allo sport e non si è mai distaccata, cercando di aiutarci in tutti i modi. Poi non si sa come è entrato il nuovo assessore Mangiaichi e da lì anche lui ha fatto un muro insieme al CSI e insieme alla Top 5. Gli impianti sportivi ad Acideale sono tutti chiusi, a parte il Tupparello e lo stadio, che fra poco chiuderà anche quello per i lavori da 1.800.000 euro che si devono andare a rifare, che si devono andare a spendere, ma noi abbiamo un battinodromo, i lavori dovevamo finire il 20 settembre del 2020, lavori che non sono mai finiti e siamo fermi già da tre mesi, abbiamo il comunale e si sono fermati i lavori già da un mese, il sandatecla ed è chiuso ed inagibile, il guardia è chiuso ed inagibile. Io dico, ma questa amministrazione dello sport cosa ne vuole fare? Soprattutto che oggi lo sport lo possono fare alcune federazioni per il Covid e altre no, ma quelle federazioni, quelle società affinate a quelle federazioni che possono fare sport, poi si ritrovano a dover andare a combattere con il CSI e la Top 5 perché non ci fanno entrare, perché non ci fanno allenare. Premetto che noi siamo tornati a gennaio dalla Coppa Italia con sette medaglie, di cui due d'oro, tre d'argento e tre di bronzo e non è poco, stiamo parlando di Coppa Italia, non stiamo parlando di manifestazioni così, così come siamo stati ai campionati regionali e abbiamo avuto tutti i ragazzi che si sono qualificati per i campionati italiani, di cui noi dal 7 al 14 giugno siamo a Riccione per i campionati italiani di freestyle e dal 18 al 27 sempre a Riccione saremmo lì per i campionati italiani di pattinaggio-corsa, però non abbiamo dove allenarci, perché siamo al San Luigi e devo ringraziare il basket San Luigi che ci sta ospitando, perché a quest'ora eravamo senza senza impianti dove poterci allenare, però con tre ore di allenamento a settimana, perché facciamo tre ore di allenamento a settimana, non penso che una società che faccia sport a livello nazionale possa continuare così, quindi noi attendiamo che almeno l'amministrazione o chi per loro, anche stesso la nuova società di imprese, magari ci sediamo ad un tavolo, si discute, si parla, come da buoni sportivi e come prevede anche lo statuto del CONI, perché io ricordo che ci sono delle leggi, in questo momento chi ha in gestione il palazzetto sta andando contro la legge, la 289, l'articolo 90, che obbliga di assegnare gli spazi negli impianti sportivi comunali a tutte le società, non ci può essere discriminazione, così come anche il contratto d'appalto che loro hanno firmato ti dice che entro tre mesi ci doveva essere un calendario con tutte le società che si allenano all'interno, cosa che non è stato fatto, così come ti dice anche il contratto d'appalto, all'articolo 4 ti dice che chi ha in gestione il palazzetto ha l'obbligo di fare entrare tutte le società che ne fanno richiesta in quel 20% che è a disposizione delle società, perché è giusto che l'80% sono sfruttino loro che l'hanno preso in gestione, ma il 20% hanno l'obbligo per contratto di assegnarlo alle società, quindi a questo punto io chiedo all'amministrazione di due cose, o si fa un tavolo e ci si siede tutti e si lavora tutti insieme, o che si revochi immediatamente l'appalto perché loro sono contro il contratto, stanno andando contro il contratto e contro la legge dello Stato, perché ancora ribadisco, la legge dello Stato è chiara. Abbiamo parlato di impiantistica, ne abbiamo parlato con Massimiliano Trovato e con Paolo Panebianco che sono due figure, rappresentano due società storiche a Cireale, oltre ai ruoli che ricoprono in ambito anche regionale. Noi adesso siamo in compagnia del Vice Presidente Vicario del CONI Sicilia Enzo Falzone e parliamo proprio di impiantistica, questa parola ad A Cireale sta trovando qualche difficoltà ad essere concretizzata rispetto magari ad altre zone della provincia, perché? Beh direttore, chiude il lato civiale, il problema delle strutture sportive è limitativo, nel senso che in Sicilia soffriamo molto di questo problema, ovviamente ancora di più in questo momento antipatico, difficile, complicato. E però si sta lavorando su tanti altri centri nella Sicilia. Beh, se lei si fece un'isola felice è sicuramente Catania, in cui l'assessore all'opporto Sergio Parisi, amico nostro, il Presidente regionale della Nuoto, fino a qualche giorno fa, mio predecessore nel ruolo di Vice Presidente regionale del CONI, assieme al Sindaco Pogliese stanno facendo interventi importanti, sei candieri in questo momento alla prova per la ristrutturazione degli impianti. Quanto alle difficoltà esternate prima da Pane Bianco e trovato? Sì, ascoltavo le difficoltà sia dell'impiantista di Cereale, sia del specifico dell'impianto Pala Volcano, bellissimo impianto peraltro, e che quindi dobbiamo, mi auguro che si trovino delle soluzioni. Io ascoltandovi cercherò di farmi parte intelligente di questo ragionamento, devo dire che già il primo intervento era stato fatto con i rappresentanti della gestione, insieme al Presidente regionale del CSI, mia collega in Giunta CONI, per vedere se ci fossero delle condizioni affinché due storiche società potessero intervenire. Mi avevano detto che era un questione di tempi, quindi vi vedremo nuovamente sia con la gestione ma anche con l'amministrazione. Io ritengo che l'amministrazione abbia tutto l'interesse affinché le due società possano svolgere la loro attività in maniera professionale, rappresentando non solo la città di Cereale ma rappresentando la Sicilia. Non so se è stato detto, ma sia la società di pallacanestro, che è nei vertici siciliani sicuramente, ma anche la storica società di pattinaggio che ci ha dato tantissime medaglie anche negli anni scorsi, è gloriosa società premiata dal CONI e che da sempre fucina di medaglie importanti per la nostra isola e per la nostra provincia. Quindi ci pare di capire che insomma il CONI interverrà per un tavolo di chiarimento? Il CONI farà in modo di essere da Trenuions, se ci riusciamo a questo ragionamento, mi impegno a svolgere qualche telefonata per verificare se ci fossero le condizioni. Io ovviamente non conosco e non capisco le problematiche specifiche, quindi le dovrò verificare, io credo che non si sottravanno ovviamente ad un incontro, sia l'assessore Mangiagli ho avuto il modo di conoscere, di apprezzarlo per la sua cultura sportiva, sia il CSI che è una interpromozione sportiva importante, sicuramente non si sottravanno a un incontro. Grazie Presidente, noi aspettiamo ulteriori sviluppi della situazione e ovviamente invitiamo sin da ora anche l'amministrazione, i responsabili della nuova gestione del Palavolcan ad intervenire qualora lo ritenessero opportuno. Grazie dell'attenzione.